Tanti, tantissimi palloncini sulla scarinata del Duomo di Teramo, ognuno con un nome di donna, per ricordare le 85 vittime di femminicidio in Italia tra il 2020 e il 2021. E poi la facciata illuminata di rosa intenso e la scritta 8 marzo, giornata di diritti delle donne. Con questa iniziativa congiunta, la Commissione Pari Opportunità della Provincia e la Consulta per le pari opportunità del Comune di Teramo, hanno voluto sottolineare la ricorrenza dell'8 marzo, mettendo al centro proprio la drammatica attualità del femminicidio. Intanto si sosseguono in città svariate iniziative organizzate da enti e associazioni. La CGL di Teramo lancia incontri tematici online per stigmatizzare che, in tempi di pandemia, le donne stanno pagando il costo maggiore e lo dicono le indagini Istat sui dati dell'occupazione femminile. C'è poi la rete antiviolenza, Esther sono io, impegnata a diffondere la cultura di parità di genere. Per l'occasione dell'8 marzo ha realizzato una sciarpa rossa per Esther, a cura di Davide Peluzzi, ambasciatore per il mondo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che in occasione della spedizione Explora Non Limit ha portato la sciarpa rossa sull'Everest, la montagna madre della terra, a protezione di tutte le donne del mondo. Sono scese in piazza Orsini, anche tante giovani ragazze della Casa del Popolo di Teramo, al grido siamo tutte in zona fucsia. Hanno recitato monologhi di Paola Cortellesi e coordinato un flash mob contro la violenza sulle donne. Al termine di questa giornata simbolo, in piazza Martiri a Teramo, l'albero dell'Olmo si spegnerà definitivamente. Ma prima si svolgerà l'iniziativa La Luce delle Donne, promossa dal Consorzio Stabile Rennova, che dopo aver sostenuto l'illuminazione rosa dell'albero al centro della città, intende ora accendere i riflettori sul coraggio delle donne ad un anno dalla pandemia.